guerra e crisi economica le marche sondano nuovi mercati in provincia di pesaro si preparano 80 alloggi per i profughi debutta il nova vax prime somministrazioni a pesaro capitale della cultura domani è il giorno dell'audizione no al casello a santa veneranda i residenti non si arrendono benvenuti al nostro telegiornale di oggi mercoledì 2 marzo che apriamo occupandoci delle ripercussioni economiche della guerra in ucraina sulle marche oggi c'è stato infatti un vertice fra regione e camera di commercio per affrontare le gravi problematiche che si stanno generando a livello di export e anche di commercio allo studio alternative su mercati differenti vediamo il servizio abbiamo parlato dei riflessi di questa guerra sulla nostra economia regionale che purtroppo rischiano di essere drammatici alcune imprese hanno una forte propensione sui mercati russi e sul mercato ucraino anche e in generale sull'area asiatica e questo rischia di comportare un'incertezza molto pesante per molti produttori soprattutto nel mondo del fashion della moda delle scarpe e oggi abbiamo incontrato insieme al presidente acquaroli insieme al presidente sabatini una importante delegazione 50 imprenditori con le associazioni relative per decidere insieme delle strategie abbiamo già in mente alcune idee che percorreremo rapidamente senza perdere tempo e cercando di creare se possibile un sollievo a questa eventuale perdita di fatturato per le nostre imprese sono esiti preoccupanti perché lo scenario uno scenario in continua evoluzione che non ci rassicura e non rassicura le tantissime aziende marchigiane che sui mercati dell'est europeo avevano costruito negli anni rapporti consolidati e anche quindi molto lavoro e ordini sicuri. Oggi lo scenario cambia e sta radicalmente proponendo una configurazione diversa su questa configurazione diversa stiamo lavorando nell'immediato per dare risposte insieme al governo nazionale a quelle che sono le emergenze che si sono create a livello economico ma anche in una prospettiva di andare a conoscere e conquistare nuovi mercati per portare nelle nostre imprese nelle nostre aziende nuove opportunità. Stiamo anche analizzando con il presidente Acquaroli con il vicepresidente Carloni nuovi scenari nuovi mercati dove poter magari in questo momento di difficoltà perché pensiamo che l'evento bellico non venga a terminare subito magari scoprire nuovi mercati. Altresì gli imprenditori vogliono dei sostegni importanti per far sì che tutte le fatturazioni emesse, tutte le commesse che loro avevano con il mercato ucaino e con il mercato russo possono essere sostenute. Ricordiamo che il settore russia sul distretto fermano maceratesse della calzatura incide quasi l'ottanta per cento perciò a livello nazionale i numeri più importanti sono quelli marchigiani che vanno a intaccare su questo evento bellico. Individuare 80 alloggi in provincia di Pesaro Urbino per i profughi in arrivo dall'Ucraina. È questo l'impegno sottoscritto oggi in prefettura di Pesaro nella riunione convocata dal prefetto Tommaso Ricciardi alla presenza dei rappresentanti dei comuni più grandi del territorio ovvero Pesaro, Fano, Vallefoglia, Mondolfo, Colli al Metauro, Fossombrone, Cagli e Fermignano. Si è deciso che sarà effettuato un tracciamento sanitario legato al covid-19 di tutti gli ucraini che verranno ospitati da parenti già residenti sul territorio. È stato invece individuato nella Croce Rossa il referente principale per veicolare materiali e denaro in aiuto alla popolazione in guerra. Ed ora cambiamo argomento perché parliamo del debutto che c'è stato questa mattina presso l'Iper Rossini a Pesaro della nuova campagna per la vaccinazione con il Novavax. Hanno partecipato in 23, ieri il debutto c'è stato a Urbino e a Fano. Vediamo il servizio. Anche al centro vaccinale dell'ex Risto di Pesaro sono arrivate le prime 23 somministrazioni di Novavax. 23 come le persone riluttanti per un anno ai vari Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen che ora hanno deciso di concedersi al vaccino proteico. Vaccino reputato gradito ai Novavax o almeno a parte di essi per una sua composizione strutturale a base proteica differente dai predecessori. Novavax però non ha fin qui registrato un afflusso di massa. 23 somministrazioni a Pesaro così come 24 erano state a Fano e 18 a Urbino. Due hub che avevano debuttato il giorno precedente. Centri vaccinali in cui la maggior parte dell'afflusso resta ancora riconducibile alle terze dosi di Moderna. Ma i centri vaccinali l'afflusso è più che dimezzato rispetto ad un mese fa e anche i calendari vengono ricalibrati. Domani ad esempio saranno aperti l'ex Risto e il Codma di Fano dalle 14 alle 20 mentre Urbino sarà chiuso. La logica dell'Asur è quella di tenere operativo ogni hub tre turni a settimana abbassando le serrande invece nel turno domenicale. Ieri al centro vaccinale di Muraglia ha debuttato anche la quarta dose per i soggetti ultra fragili e immunodepressi registrando solo due somministrazioni. Dallo scorso novembre si è deciso che si costruirà il nuovo ospedale Marche Nord a Muraglia ma ancora si sa poco o nulla sulle tempistiche di partenza e sulla realizzazione. Argomento sul quale i consiglieri regionali del PD invocano risposte dalla giunta a Quaroni. Risale allo scorso mese di novembre l'ufficialità della realizzazione del nuovo ospedale Marche Nord di Pesaro recentemente inserito anche nel master plan di edilizia sanitaria della regione Marche. Risale allo stesso mese pure la giudicazione del sito già ospedalizzato di Muraglia preferito dopo approfondimenti tecnici al terreno vergine di case bruciate. Arrivati a marzo però galleggiano ancora nell'incertezza tempistiche di partenza dei lavori, tempistiche della realizzazione e risorse per la progettazione. Domande sollecitate dall'opposizione in consiglio regionale che ha presentato un'interrogazione firmata da Andrea Biancani e Michaela Vitri. La cosa che mi sta preoccupando sempre di più sono i tempi perché attualmente il progetto che era in qualche modo stato definito è stato gettato e quindi si tratta di rincominciare con la progettazione. Attualmente non mi risulta che la regione ha iniziato la progettazione e per questo nell'interrogazione chiedo quali sono i tempi per iniziare la progettazione, per capire chi farà la progettazione e dove sono le risorse per poter fare i progetti. Perché ricordo che un progetto di questo tipo potrebbe costare circa 10 milioni di euro, quindi non parliamo di cifre basse. Dopodiché ho chiesto oltre ai tempi della progettazione anche quelli che sono i tempi per la realizzazione previsti. Attualmente non vedo a bilancio risorse previste, quindi si tratterà di trovare le risorse facendo degli accordi probabilmente con lo Stato, ma accordi con lo Stato che sono possibili solo qualora sono pronti i progetti. Quindi quello che ho voluto in qualche modo chiedere, una risposta, non è la prima interrogazione che faccio, ma penso che la città di Pesero, ma l'intero territorio, abbia diritto di sapere quelli che sono i tempi di realizzazione di un nuovo ospedale, in quanto eravamo arrivati davvero a un passo dall'inizio dei lavori e ci ritroviamo che a circa un anno e mezzo dalla nuova amministrazione regionale ancora non è stato definito il nuovo progetto, ma anzi abbiamo perso un anno e mezzo per riconfermare quella che è la sede che è stata individuata, cioè la sede di Muraglia, mentre inizialmente sembrava che la nuova giunta regionale voleva in qualche modo realizzare questa struttura a case bruciate. Ed ora passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Senigallia ha arrestato ai domiciliari un imprenditore cinese del settore tessile colpevole di ripetuta evasione fiscale attraverso cinque società a lui riconducibili, aperte e chiuse dal 2016 ad oggi. Società diffuse fra la provincia di Ancona e il territorio pesarese di Mondolfo. L'imprenditore ha accumulato 1.700.000 euro di debiti nei confronti dello Stato, cifra che è stata confiscata fra conti correnti, immobili, furgoni e macchinari da lavoro. E' stata elevata anche una maxi-sanzione di 75.000 euro per la presenza di 7 persone trovate a lavorare in nero alle sue dipendenze. Domani e venerdì le 10 candidate a Capitale della Cultura 2024 presenteranno la loro audizione finale al Ministero della Cultura. La prima delle 10 a mostrarsi sarà a Scolipiceno, domani alle ore 9. Il turno di Pesaro scatterà sempre domani alle 15.15 con la videoconferenza che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura. Il bando di concorso prevede che il Ministero decida la città vincitrice entro la data del 29 marzo. Ci siamo occupati proprio in questi giorni della chiusura a partire da domani del parcheggio di Porta Cappuccina, chiusura per la quale il Comune è già in corso ai ripari, aprendo una nuova area di sosta a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Vediamo il servizio. Oggi, mercoledì 2 marzo, è il primo e unico giorno di sosta extra-large a due passi dalla stazione ferroviaria. C'è infatti un parcheggio abituale che domani sarà transennato e un parcheggio nuovo che da oggi viene aperto. Ma facciamo ordine, come anticipato nei giorni scorsi e come ci ricorda anche questo cartello. Da domani, giovedì 3 marzo, chiuderà il parcheggio alla nostra destra, il cosiddetto parcheggio di Porta Cappuccina, nome della SRL privata che decide per la chiusura dopo un braccio di ferro col Comune di Pesero su un impegno d'acquisto del terreno trascinato da anni e mai realizzato. Comune che pur sempre intenzionata l'acquisizione, ma i tempi a quanto pare non sono immediati. Ne ha abbastanza Porta Cappuccina che domani chiude, ma il Comune di Pesero cuce in fretta la toppa, aprendo oggi per la prima volta la nuova area di sosta affiancata di pochi metri. Si tratta del parcheggio in cui ci troviamo ora, in cui hanno cominciato a parcheggiare circa 20 auto, le prime a inserirsi in questa nuova area di sosta inserita tra la ferrovia e lo stesso parcheggio di Porta Cappuccina. È un parcheggio che il Comune ha recentemente acquisito da rete ferroviarie italiane tramite il progetto sprint del bando periferie. Si tratta di circa 150 posti auto, ovvero leggermente meno di Porta Cappuccina, ma intanto è una situazione utile a conciliare le esigenze di fruizione della sosta della città. Una soluzione che di fatto è stata accelerata, visto le circostanze di chiusura di Porta Cappuccina, aprendo dunque questa area che prossimamente aprirà anche il Bike Hub dedicato alla mobilità sostenibile. Ed è un tema parcheggi assolutamente d'attualità, visto che lunedì scorso in Consiglio Comunale è passato all'unanimità anche il progetto di fattibilità per il parcheggio Villa Marina fra Viale Trieste e Viale Gorizia, rendendo definitiva la recente fase di sperimentazione in zona mare. L'intervento sarà di 200 mila euro in cui realizzare un parcheggio a raso destinato ad accogliere 165 posti auto. Sono previsti interventi alla pavimentazione, all'illuminazione e alla segnaletica. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Come sempre vi invitiamo a inviarcele al nostro numero di WhatsApp 370-366-7210. Oggi Rossini TV dà voce ad alcuni residenti del quartiere Santa Veneranda, profondamente contrari alla realizzazione del secondo casello in quella parte della città. Li abbiamo intervistati in questo prossimo servizio. A poco più di due settimane dal Consiglio Comunale, che ha dato l'ok al progetto definitivo per la realizzazione del casellino autostradale unidirezionale Pesaro Sud in zona Santa Veneranda, una ventina di persone fra residenti e consiglieri di quartieri si sono radunati vicino al locale Campo da Calcio, dove a pochi metri dovrebbe sorgere l'accesso autostradale. È un casello che però riscuote il no secco di questa parte di cittadinanza che ieri ha voluto argomentare le proprie ragioni, sperando di essere ascoltati dal sindaco Matteo Ricci. Noi diciamo no al casello in questo punto perché, come potete vedere, è un quartiere comunque residenziale, circondato da verde. Questo casello verrà proprio davanti a delle abitazioni, tra cui la mia. Chiuderà completamente la zona attualmente pianeggiante verde, dove comunque dietro c'è un campo da calcio dove i ragazzini ora respirano aria buona, poi respireranno soltanto smog. Per non parlare di inquinamento acustico, visivo, non da poco perché comunque è luce che ci sarà giorno-notte. Per non parlare del traffico che comunque coinvolgerà tutta Pesaro. Basta vedere adesso che la zona della Baratoff è chiusa e c'è tutta la città, la zona qua su, che è completamente bloccata. Sfido chiunque, anche chi abita dall'altra parte di Pesaro, a dire no al casello perché comunque è veramente inaccettabile una cosa del genere. Possibile che non riescano a trovare un'altra ubicazione a questo tipo di casello, a questo tipo di struttura. Ci deve essere per forza, qua non la possono fare, anche perché comunque noi dal nostro primo cittadino abbiamo bisogno di essere ascoltati, di avere fiducia, una fiducia che lui abbiamo dato e quindi vogliamo che venga contraccambiata in ogni punto. Secondo me è una cosa molto sbagliata, naturalmente ci sono altri posti per fare questo casello e naturalmente la parte del Genica sarebbe il posto migliore se non c'è quello di Villa Fastigi. Purtroppo è stato assegnato questo casello, secondo me è una cosa molto ma molto sbagliata. Tutte le città cercano di portare il traffico fuori dalla città, Pesaro invece si fa il contrario, si vuole portare dentro la città quelli per andare a Fano, per andare a altre parti che vengono giù dalla Val del Foglia devono andare a Santa Venerante per prendere il Raffano. Mentre invece abbiamo la Montella Battese che quattro sindaci e quelli che dicono di fare il casello lì vuol dire che danno degli stupidi a quei quattro sindaci, hanno detto che l'unico posto era sulla Montella Battese dove il sindaco di Pesaro, Giovanelli, aveva fatto e ha fatto il progetto, doveva venire anche un albergo su quella zona lì, ma siccome qualcuno di quella zona lì ha detto di no, ha detto e quindi il casello si fa qua dove non c'è industrie, dove non c'è niente. Il casello nella Montella Battese serviva per il turismo per Urbino, il turismo per la Carpegna, il turismo per la città che potevano uscire da lì, potevano uscire. Invece qui cosa c'è dietro di là? Dopo 11 anni Pesaro torna ad ospitare Sporting Tour 2022. Le finali nazionali della stagione dell'ente di promozione sportiva US-ACLI si terranno in città in due weekend, dal 2 al 5 giugno, dal 10 al 12 giugno. Sporting Tour prevede un ricco menu di gare, seminari, convegni e iniziative sociali che porteranno a Pesaro ben 2.500 tesserati e quasi 5.000 presenze sul territorio. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri, riceverà il prossimo 20 marzo nella sede di Confcommercio Pesaro Urbino il premio anti-racket targa della solidarietà di 50 i più, associazione degli over 50 di Confcommercio. Nicola Gratteri, è da sempre in prima linea contro l'andrangheta e la criminalità mafiosa e vive sotto scorta dal 1989. Tantissime le sue inchieste che hanno colpito i rapporti tra andrangheta, mafia siciliana, i cartelli della droga messicani e i colombiani ed il traffico di stupefacenti tra Calabria, Sud America e Stati Uniti. E ora parliamo di spettacoli. Domani giovedì 3 marzo al Teatro Bramante di Urbania, andrà in scena alle 21.15 Raffaello, il figlio del vento. Si tratta di un racconto avvincente e poetico sulla vita del genio dell'arte del rinascimento Raffaello Sanzio, diretto e interpretato da Mattias Martelli. Taglio del nastro oggi, questa mattina, a Tavuglia per il nuovo Conad City di Via Pergolesi. Un nuovo punto vendita sul quale Rossini TV ha anche nell'occasione realizzato uno speciale televisivo che trasmetteremo mercoledì 9 marzo alle ore 21.20. Intanto vediamo alcune anticipazioni con il nostro Marco Cadeddu. Mercoledì 2 marzo 2022 in Via Pergolesi 2 a Tavuglia inaugura il Conad City, un punto vendita affidato alle sapienti mani dei due nuovi gestori, Alessandro Giavoli e Cosetta Vagnini. Il restyling è stato brevissimo perché abbiamo tenuto chiuso il punto vendita solamente un giorno, questo per dare continuità di servizio. È stato un restyling non profondo, non siamo intervenuti sulle strutture ma sugli assortimenti sì e sul cambio gestione. In effetti questo più che un restyling è un cambio di gestione. La socia Manuela uscente passa il testimone ad Alessandro e a sua moglie Cosetta. Quindi l'intervento è stato e sarà molto più profondo dal punto di vista assortimentale, di rifornimento e di rapporto con il territorio piuttosto che diciamo di imbellettatura e di strutture. Alessandro Giavoli e Cosetta Vagnini sono i due gestori marito e moglie del nuovo spazio Conad City di Tavuglia. Una giornata importante oggi, solo un giorno di chiusura e si riapre. Avete fatto un restyling a tempo di record. Abbiamo fatto un restyling a tempo di record. È stata una scommessa che abbiamo raccolto molto volentieri. E' abbastanza difficile ma molto volentieri perché vogliamo rilanciare con tutte le nostre forze, tutto il nostro gruppo vogliamo rilanciare questo negozio e vogliamo instaurare con la comunità un bellissimo rapporto di tutto. L'orario è continuato dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato e la domenica dalle 8.30 alle 12.30. Per noi è chiaramente una necessità perché sono punti che oltre ad essere un'attività commerciale, è un servizio per i cittadini a portata di mano quindi all'interno del centro abitato, in questo caso di Tavuglia e del capoluogo. Conad che già era presente però in questa veste rinnovata e sicuramente ampliata anche nell'offerta e nei servizi. Siamo sempre molto contenti quando un'attività apre o si rinnova, comunque investe sul territorio perché lo abbiamo visto anche negli anni di pandemia, avere un punto di rifornimento, di prima necessità, un servizio per i cittadini è importantissimo perché poi l'abbiamo provato sulla pelle, non si poteva andare altrove se non all'interno del proprio comune e questo è stato importante. Questo ampliamento ha comportato anche assunzioni e personale locale? Hanno confermato tutto il personale che era già dipendente del punto già esistente, è cambiata la gestione in questo caso di ragazzi che abitano vicino a Tavuglia, però hanno confermato tutto il personale dipendente che c'era in precedenza, quindi anche questo è importante. È sempre bello parlare di attività che aprono dopo questi anni di grandi chiusure, quindi complimenti in bocca al lupo a questo nuovo Conad a Tavuglia. Adesso andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV perché questa sera un evento tanto atteso, vi faremo vedere quella che è stata la presentazione della sesta tappa della Tirreno Adriatico 2022. La sesta tappa partirà da Pecchio e arriverà a Carpegna e noi il 12 marzo saremo a Carpegna con uno speciale televisivo, vi mostreremo questa gara importantissima che si concluderà appunto a Carpegna. Quindi questa sera intanto vedrete Moser, tantissimi personaggi ospiti che hanno presenziato alla presentazione, interviste esclusive, quindi non perdetevi se siete appassionati di ciclismo, questo appuntamento alle 21.20. E poi ancora domani ritorna la nostra rassegna stampa, alle 7.20 vi aspetto in diretta oppure se volete potete vederla anche alle 8.20, alle 12.30, alle 2 e alle 6 del pomeriggio. E vi ricordiamo anche la consueta messa della domenica, se vi collegate alle 11.30 su Rossini TV vedrete la messa in diretta questa domenica dal Duomo di Pesaro. Ho detto davvero tutto, carissimi amici grazie per essere stati con noi anche questa sera, il prossimo appuntamento con l'informazione appunto torna domani con la rassegna stampa, vi auguro buona serata.